Un saluto dal Tg della mobilità, orario festivo per martedì 1 novembre, festività di ogni santi sulla rete capitolina del trasporto pubblico. Saranno inoltre potenziate le linee bus C per i cimiteri cittadini. Via dei fori imperiali, come consuetudine nelle giornate festive, sarà Isola Pedonale, con la deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Sempre martedì nella zona di Porta Portese ci sarà la deviazione festiva per le linee di bus 170, 719 e 781. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.